benvenuto nel mio canale di cucina oggi preparerò dei bucatini con le uova di lompo vediamo gli ingredienti servirà un vasetto di uovo di lompo 200 grammi di bucatini o altro tipo di pasta 150 ml di panna 3 cucchiai di olio di oliva mezzo bicchiere di vino bianco secco mezzo cipollotto del pepe e del sale quanto basta passiamo alla preparazione sciacquare le uova di lompo con dell'acqua per eliminare il sale in eccesso dopodiché trasferirle in una ciotola e aggiungere 3-4 cucchiai di vino bianco secco lasciare macerare per una decina di minuti e poi sciacquare del vino passiamo alla cottura portiamo a bollore una pentola con abbondante acqua salata e tuffiamoci dentro i bucatini nel frattempo che i bucatini cuociono in un'altra padella versiamo 3 cucchiai di olio aspettiamo che l'olio si scaldi e poi puniamo la cipolla che abbiamo tritato finemente e la rosoliamo a fuoco dolce aggiungiamo un pizzico di pepe in modo da far esaltare il profumo e i sapori poi la sfumiamo con il vino bianco con 2-3 cucchiai di vino bianco lasciamo che il vino bianco evapori poi due minuti prima della fine cottura della pasta aggiungete la panna aggiungete un pizzico di sale e un pizzico di pepe poi scolate la pasta e unitele la panna aggiungete le uova di lombo mescolate e mantecate aggiungendo dell'acqua di cottura continuate a mantecare per un paio di minuti dopodiché impiattate e buon appetito a tutti ti ringrazio per aver visto il video se ti è piaciuta la ricetta metti un like e lasciami un commento in descrizione se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale di cucina un grande saluto da Gian e vi aspetto al mio prossimo video